E se girassi un TikTok con un iPod di 14 anni fa? Stavo sfogando la mia voglia di fare acquisti online a caso quando a un certo punto trovo su Vinted un annuncio di un iPod Nano di quinta generazione alla modica cifra di 15€. Ho deciso di spendere quei 15€ per il bene della mia salute mentale e l'ho comprato. Il problema, perché la mia vita è piena di problemi, che mentre mi è arrivata la notifica del pacco io mi stavo recando in stazione a prendere il treno ed ero un super ritardo, ma io me ne sono altamente fregato e ho deviato per andare a prendere il pacco. Ho rischiato di perdere il treno. Mi reco in stanza d'hotel, trovo una posizione per tenere fermo l'iPod non tanto sicura, mi metto a fare le varie riprese in stanza. Poi me ne sono approfittato per il viaggio di ritorno per mettermi lì a montare un pochettino il video. Ed è uscito fuori questa roba qui. E' uscito fuori questa roba qui.